Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Oggi vorrei parlare di democrazia e Stato. In quale modo entrano in rapporto e come è possibile definire questi due concetti dal punto di vista soprattutto filosofico. Dunque, di democrazia noi possiamo dare due definizioni. La prima è una definizione di tipo contenutistico e anche storico, cioè la democrazia sostanzialmente è stato quel movimento che si è contrapposto nel corso della storia, in un preciso anche momento della storia, al liberalismo. Per esempio erano democratici coloro che sostenevano l'eguaglianza degli individui, quanta più eguaglianza possibile per gli individui. Quindi in questo senso democrazia faceva anche rima con certe ideologie e posizioni socialistiche, socialisteggianti, prima che queste venissero poi incluse all'interno dei partiti specificatamente socialisti o anche comunisti. Quindi democrazia nel senso di contenuto, nel senso di ideologia, è stata una fase storica ben precisa, soprattutto quella dell'Ottocento, e in questo senso si contrappone e si contrapponeva al liberalismo, che invece aveva un approccio diverso rispetto a questo estremismo democratico. Viceversa possiamo dare una visione metodologica della democrazia, una visione più propriamente procedurale, la quale sostiene la democrazia è fondamentalmente la possibilità di poter decidere del governo. Ora questa procedura si esprime sostanzialmente nel fatto che uno tutti sono messi nella condizione di poter decidere e esprimere la propria opinione, e due, che queste poi decisioni vengano prese a maggioranza, una volta che si è messi in condizione di poter decidere. Questi sono gli aspetti fondamentali della democrazia come strumento, come metodo, come procedura. In questo senso, come affermano alcuni pensatori, tra i quali anche Norberto Bobbio c'è una correlazione tra il liberalismo e la democrazia, perché la democrazia sarebbe la logica conseguenza delle rivendicazioni del liberalismo, quel liberalismo classico il quale sosteneva appunto la partecipazione dei cittadini, sosteneva la libertà individuale, sosteneva la possibilità per l'individuo di esprimere un proprio giudizio, una propria opinione e quindi di far propria la libera espressione di ciò che si pensa, di ciò che si crede e di ciò che si intende. Questa sarebbe, secondo alcuni, una logica conseguenza che trova spazio nella democrazia. Ora, il problema della democrazia qual è? Che fino a quando ci si trova a livello teorico, a livello filosofico di dottrina politica, facilmente si può definire la democrazia, la si può anche scorporare, dividere come abbiamo fatto in alcune definizioni. Molto più difficile però diventa poi applicare questa democrazia. Una, applicare la democrazia nel vero senso della parola, nella prassi, e infatti molti studiosi, filosofi, e non solo, hanno avuto moltissime difficoltà a poter razionalizzare l'operato dei governi, cioè degli stati, in senso democratico. Difficilmente riusciremo a trovare un qualche pensatore che è riuscito a giustificare in qualche modo l'operato dello stato nel senso della prassi e della pratica. Questo perché succede? Perché c'è una sorta di distanza tra la democrazia come dovrebbe essere, quindi in senso sia di contenuto ideale che di procedura, e la democrazia che invece poi diventa nella realtà. Nella realtà, in altre parole, la democrazia è davvero partecipazione di tutti alla cosa pubblica, alla scelta, è davvero rispetto delle opinioni, la possibilità che tutti siano messi nelle condizioni di esprimere ciò che pensano, credono, sentono? Ecco, è davvero questo? E ancora, quando la democrazia si installa all'interno dello stato, questo stato incarna i valori proposti dalla democrazia, cioè uguaglianza, libertà individuale, possibilità di decisione, considerazione anche delle posizioni diverse, oppure no? Ecco, questa è la grande domanda delle domande. Certo, se noi guardiamo la storia, se noi guardiamo anche l'età moderna e contemporanea, ci rendiamo conto che questa possibilità che la democrazia sia applicata è molto labile, è molto labile, perché in realtà quello che noi vediamo nella democrazia non è nient'altro che la rappresentazione di interessi particolari. Ora, questi interessi particolari sono portati avanti dai partiti, per esempio, dalle fazioni, dai gruppi di potere, cioè ognuno, ogni gruppo, tende a portare al proprio interno le necessità della propria parte, e questo è anche se vogliamo logico, perché altrimenti non si chiamerebbe partito, si chiama partito perché rappresenta quella parte ideologicamente parlando. Quello che è molto difficile a livello pratico e che invece è abbastanza semplice a livello teorico è riuscire a conciliare le parti, perché se la democrazia a un certo punto deve essere una, come dire, possibilità collettiva, cioè il fatto che la collettività quanto il più possibile esprima se stessa, quindi non lasciando nessuno fuori, è altrettanto vero però che poi bisogna mettere d'accordo le parti, bisogna governare cercando di prendere delle decisioni, e quando si prendono delle decisioni è ovvio che non si può fare questo e il contrario di questo, cioè non ci può essere essere e non essere allo stesso tempo, quindi chiaramente nel momento in cui si devono prendere delle decisioni sorgono dei problemi, sorgono dei problemi e infatti, infatti il rapporto tra la democrazia e lo Stato è proprio inficiato da questa contraddizione, cioè il fatto che si sa benissimo che cos'è la democrazia, si sa benissimo come la democrazia potrebbe essere, potrebbe svilupparsi, che cosa porta al suo interno, però si riesce pochissimo a implementare questa democrazia, davvero, davvero, e questo attenzione non è un problema di oggi, cioè non è che c'è stata un'età in cui c'erano delle classi dirigenti che avevano il senso dello Stato più di oggi, no, noi vediamo nel corso della storia un passaggio molto importante, cioè che mentre fino a qualche tempo fa le forze politiche, le ideologie reclamavano un ruolo preponderante dello Stato, cioè più Stato, sempre più Stato, quindi lo Stato deve occuparsi della politica, dell'economia, della cultura, della società, della morale, lo Stato soprattutto, e poi ovviamente affare da collante per la società. Questa è stata l'ideologia che ha caratterizzato tanti partiti nell'Ottocento e anche in buona parte del Novecento, non importa quale fosse l'ideologia, ma molti credevano, anche persino per esempio i liberali più accesi pensavano che lo Stato dovesse avere un ruolo preponderante rispetto al ruolo di guida all'interno della società, di controllo all'interno della società, perché si pensava che con lo Stato si potesse applicare maggiormente la democrazia, però in realtà ci si è accorti che all'interno dello Stato operavano sempre di più forze di parte, quindi appunto partiti e gruppi di potere e di influenza che fondamentalmente facevano gli interessi privati, cioè di una parte, ed ecco che nasce la corruzione. La corruzione dove nasce? Nasce proprio in questo senso, cioè nasce dal fatto che le classi dirigenti, anziché mettere in pratica la democrazia, mettono in pratica il soddisfacimento degli interessi privati attraverso lo Stato. Ora interessi privati che possono essere strettamente personali o anche interessi privati che sono interessi di una parte. Ora dal punto di vista strettamente logico e filosofico che si facciano gli interessi di una parte è assolutamente conseguente, però non è conseguente se noi poi riportiamo questo ragionamento nella democrazia, perché questo entra in contraddizione con quello che si predicava e si predica della democrazia. Se la democrazia è istituire una sorta di uguaglianza negli individui e la possibilità di decidere delle sorti di una comunità, di uno Stato, di un governo, ecco se il governo fa gli interessi di una parte solo ed esclusivamente più o meno legali, chiaramente viene meno il concetto di democrazia, fermo restando ovviamente che nella democrazia opera il concetto di maggioranza, perché a un certo punto bisogna prendere delle decisioni. Ora un'altra contraddizione all'interno dello Stato e del governo è il fatto che a un certo punto queste decisioni prese a maggioranza possono non essere non solo ingiuste, ma anche non condivise da una buona parte della società. E allora la domanda è una buona parte della società ha diritto a ribellarsi quando le decisioni della maggioranza non sono rispettose della libertà individuale democratica, ecco la seconda questione delle questioni, cioè se noi impostiamo la democrazia come base per la nostra società e all'interno della democrazia c'è anche la libertà individuale, chiaramente se una maggioranza prende delle decisioni che vanno contro le libertà individuali, ecco la domanda è bisogna ribellarsi o rispettare la maggioranza? Quale parte della democrazia qui funziona e ha preeminenza? La parte maggioritaria che decide perché vince oppure la parte che riafferma la libertà individuale? Qui sorge un altro problema e cioè il fatto che sia possibile avere società democratiche dove però non c'è il rispetto della libertà individuale. Possono tranquillamente esserci, cioè situazioni statuali in cui ci sono delle comunità, delle società che vengono governate con metodi democratici, però all'interno di questi metodi democratici vengono scorporati i diritti umani per esempio, vengono scorporate le libertà individuali, per cui si va a votare, vince una maggioranza, decide quella maggioranza ma prende decisioni anche che vanno contro alcune libertà individuali per alcune persone. Questo può darsi benissimo, quindi vedete che il concetto di democrazia comincia a sgretolarsi nel momento in cui si mette in pratica, perché ci sono anche delle società che sono sì democratiche ma non rispettose delle libertà, quindi non in questo senso liberali. Come dicevo prima, quindi abbiamo avuto un periodo storico in cui c'era la necessità di avere più Stato perché si credeva che attraverso lo Stato si potesse istituire la democrazia e poi abbiamo avuto sempre più vicini a noi dei periodi in cui ci si è resi conto che lo Stato non era possibile farlo funzionare e allora si si è resi, come dire, coscienti dell'idea che bisognasse privatizzare. Più si privatizza più lo Stato può funzionare, cioè se lo Stato diventa una specie di azienda automaticamente questo Stato può essere governato in base alla domanda e offerta, profitto eccetera e quindi potrebbe funzionare. Questa è l'idea che della democrazia sia oggi, per cui lo Stato in molti paesi è sgravato completamente da vari settori che prima invece controllava direttamente e adesso invece sono privatizzati. Ora questo non significa che essendo privatizzati lo Stato non ha più controllo o incidenza in questi settori, certamente si è creato un sistema di potere che implica la parte politica e la parte economica che insieme si intrecciano e governano questi settori. Però anche qui c'è un problema, cioè il privato come soluzione a tutte le storture del pubblico. Il pubblico non funziona per vari motivi, motivi antropologici, motivi strutturali e quindi si risolve la questione del pubblico non funzionante attraverso il privato, cioè si prova a inserire lo Stato, il funzionamento della macchina statale all'interno del funzionamento del mercato. Si pensa questo, naturalmente con tutte le conseguenze negative che possono arrivare anche dal mercato, perché c'è questa illusione che il mercato possa autoregolarsi da solo, ma in realtà anche all'interno del mercato si fanno interessi privati. Naturalmente interessi privati che nel mercato sono giustificati nel momento in cui ci sono capitali privati. Chiaro che se uno è un privato, un imprenditore, fa gli interessi propri, questo è nella logica delle cose. Ben diverso però è trattare uno Stato, la cosa pubblica, come se fosse un'azienda privata e questo pone tante difficoltà. Una difficoltà su tutte che riguarda l'applicazione della democrazia nello Stato, nella pratica, è il concetto di interesse nazionale. Questo è molto importante perché sentiamo spesso parlare di interesse nazionale, ma che cos'è questo interesse nazionale? Cioè se l'interesse nazionale deve essere espressione della maggioranza e allora di una scelta precisa di una parte politica, di una parte diciamo della società, è allora un conto. Se invece l'interesse nazionale deve essere l'interesse di tutta la parte, di tutte le parti che compongono la nazione, allora è ben diverso. Però anche qui abbiamo lo stesso problema, cioè l'interesse nazionale non coincide con l'interesse di tutte le persone, quindi bisogna a un certo punto decidere che cosa sia o non sia l'interesse nazionale. Ammesso e non concesso ovviamente che ci sia ancora l'interesse nazionale perché oggi noi siamo di fronte agli interessi sovranazionali, per cui lo Stato, molti Stati, devono far riferimento a interessi sovranazionali e non a interessi che coinvolgono la nazione propria. Ma al di là di tutto questo c'è il problema. La società democratica come si rapporta all'interesse nazionale? Come lo esprime? Lo esprime su base maggioritaria? Ma allora una parte della società rimane fuori. Pensiamo per esempio all'andare in guerra, no? C'è un paese che decide di entrare in guerra. Naturalmente questa è una decisione che viene ammantata come necessità di interesse nazionale. Ma interesse nazionale rispetto a chi? rispetto alla parte che ha vinto le elezioni, rispetto alla parte che compone il governo, rispetto alla parte che vince a maggioranza di decisionale? Oppure dovrebbe essere una decisione condivisa tra tutta la popolazione? Ecco, questo è il problema della democrazia nel momento in cui si applica alla realtà e l'interesse nazionale pone questo problema in tutta la sua gravità. Ripeto, è facile descrivere la democrazia nel senso teorico e anche di prospettiva, cioè la democrazia dovrebbe essere questo, dovrebbe essere quest'altro, non dovrebbe essere questo, però è stato molto difficile nella storia vedere applicata la democrazia. Ecco, la domanda che secondo me oggi ci si dovrebbe fare e si dovrebbe studiare su questo è la democrazia in quanto tale, sia a livello contenutistico che procedurale, che metodologico, è stata mai applicata oppure no. Noi possiamo dire che esistano paesi democratici in tal senso al 100%, al 50% oppure non sono mai esistiti, oppure può anche darsi che ci sia qualcuno che dica no, la democrazia effettivamente è stata applicata, è esistita, esiste tuttora. Questo è un punto molto molto importante. Quello che voglio dire in conclusione è che la democrazia non può eliminare il conflitto. Ecco, questo è un aspetto che mi preme molto sottolineare, cioè la democrazia nel suo intento nobile vorrebbe eliminare in qualche modo il conflitto all'interno della società. In che modo? Cercando di dare voce a tutti, cercando di dare la possibilità a tutti di esprimersi, cercando di far partecipare il maggior numero possibile di persone alle decisioni naturalmente democratiche a tutti i livelli. Ora noi abbiamo già visto che questo nella realtà è molto difficile e allora significa questo, ma io penso che sia difficile non solo perché la democrazia potrebbe non essere stata applicata totalmente, ma è proprio difficile perché connaturato anche alla natura umana, ecco, è molto difficile che si evitino i conflitti. La democrazia di per sé, non meno delle, ovviamente, di altri sistemi, non può evitare il conflitto tra le persone, perché nel momento in cui c'è una parte di società che si sente schiacciata, limitata dalle decisioni di un'altra parte, che reputa non democratiche, che reputa non rispettose della dignità dell'individualità o semplicemente dell'opinione altrui, ecco, questa parte tenderà sempre comunque a mettersi in contrapposizione, in contrapposizione e quindi a generare conflitto. La democrazia non elimina il conflitto all'interno della società. Se vogliamo in molti casi lo acuisce, perché mentre la dittatura non permette a parte della società di emergere e quindi le reprime, sia fisicamente sia psicologicamente, impedisce, la dittatura impedisce nella sua forma più estrema alle parti di emergere, quindi in questo modo pensa di eliminare il conflitto nella società, nella democrazia il conflitto è impossibile da eliminare. Il conflitto è quasi intrinseco alla democrazia, proprio perché ogni parte può partecipare, scusate il gioco di parole, ogni parte può dire la propria, almeno apparentemente. Ogni parte si può esprimere, ma anche se non si può esprimere, conscia del fatto che è all'interno di una democrazia, vuole esprimersi e se non può farlo protesta. Ci sono vari gradi di protesta, ovviamente, ci sono vari gradi di scontro, ma il conflitto, lo scontro all'interno delle democrazie è inscindibile dall'essenza della democrazia stessa, perché più si allargano le possibilità, più le persone vengono messe nella condizione di poter dire e più si esprime il dissenso, che paradossalmente non può essere represso, cioè nella democrazia il dissenso non può essere represso totalmente, perché è connaturato alla democrazia questo paradosso, cioè che tutti possano dire qualcosa. Però il fatto di poter dire qualcosa e non poterlo praticare, perché poi di fatto abbiamo visto la democrazia nella praticità è impossibile, genera ancora più conflitto. Quindi in questo senso è una provocazione, ma a mio parere è una provocazione data da una realtà che le dittature sono meno conflittuali rispetto alla democrazia. La democrazia è molto più conflittuale e questo impedisce alla democrazia anche di poter essere messa in pratica, perché a un certo punto anche nella democrazia si dovrà prendere una decisione, cioè non è che si può parlare, vedete il dialogo a livello filosofico è molto bello, ma il dialogo a livello filosofico è un'astrazione, cioè è un concetto limite, dobbiamo tendere alla dialogicità delle decisioni e questo va benissimo, però a un certo punto nella realtà dei fatti, nella realtà sociale si deve prendere una decisione, è lì che sorgono gli scontri, i conflitti, perché la decisione fa prevalere una parte o un'altra e come si prende la decisione? Beh la decisione si prende spesso anche con la forza, ora con la forza non significa sempre con la forza violenta, con la forza fisica, ma può essere benissimo anche la forza della propaganda, la forza di un imbroglio elettorale, ecco questi sono tutti metodi per arrivare a prendere il potere, cioè per fare in modo che una decisione sia presa a favore di una parte rispetto a un'altra. Questo è il punto, la decisione deve essere presa e genera scontro e quando il dialogo non è il più possibile a un certo punto emergono altre forme per arrivare a prendere una decisione, queste forme sono lo scontro. Chi parla di democrazia come dialogo sta parlando ad un livello filosofico, giusto, condivisibile, ma rimane un livello astratto, rimane un livello che difficilmente si può applicare alla società, ecco perché la società democratica è conflittuale, ancora più conflittuale di altri tipi di società, perché impedisce la democrazia, come dire, paradossalmente impedisce alle richieste, alle necessità individuali di poter essere soddisfatte, perché? Perché la democrazia in sé per sé è essa stessa impossibilitata a passare dalla parte teorica alla parte pratica, cioè di applicabilità nella prassi della società. Vi ringrazio davvero per l'attenzione, iscrivetevi al canale e seguitelo anche nei social. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!